Vasco Morelli, ex giocatore della Ternana ma attualmente referente nazionale e internazionale del Fulham per quello che riguarda poi i campus estivi, uno dei quali è stato organizzato proprio qui a Terni a Libero Liberati tra la Ternana Calcio e il Fulham. Come sta andando, come è venuta l'idea di questo campus e come si svolgerà? Allora, il campus è iniziato molto bene perché abbiamo avuto un grande seguito e quindi siamo molto contenti l'abbiamo fatto volutamente qui, il primo ne facciamo diversi in tutta Italia, il primo l'abbiamo fatto volutamente qui in forza dell'accordo di partnership che è stato siglato tra i due club, tra il Fulham e la Ternana a marzo e questo è uno dei primi eventi che si è organizzati e deciso di organizzare insieme è stato fatto anche per far conoscere il club in Italia, uno dei club più storici di Londra e quindi siamo tutti molto contenti, sono tanti ragazzi da Ternana ma anche di altre società qui intorno che ringraziamo per la collaborazione nel darci l'ok per far venire i ragazzi e quindi siamo tutti molto molto contenti Quanti ragazzi ci sono? Siamo circa una settantina, adesso un numero più un numero meno, siamo una settantina e quindi è stata un'affluenza numerosa più del previsto e la struttura della settimana è quasi sempre la stessa, arrivano la mattina, fanno allenamento, abbiamo poi prima del pranzo una sosta dove si possono riposare, abbiamo il pranzo qui che facciamo all'interno dello stadio, finito anche lì hanno un'ora e mezza di riposo fanno dalle 3 alle 4 un corso d'inglese e il pomeriggio un altro nuovo allenamento Quindi non solo calcio ma anche cultura inglese, quindi anche altre cose? Beh l'inglese era inevitabile metterlo, l'abbiamo fatto volutamente visto che comunque verranno tre insegnanti madrelingua tra cui uno sarà un regbista in modo che possiamo parlare anche un po' del fair play, loro da questo punto di vista ci insegnano tanto secondo me e cerchiamo di dare ai ragazzi delle piccole terminologie da campo che possono servire questo anche perché abbiamo due allenatori che vengono direttamente dall'accademy del Fulham e quindi anche durante l'allenamento parleremo un po' in inglese Ecco come hanno recepito bene nonostante la difficoltà della lingua i ragazzi? Sì hanno recepito bene, fortunatamente gli allenatori sono abituati a queste fasce d'età e uno di loro ieri abbiamo scoperto che ha origini italiane quindi riesce a farsi capire in entrambe le lingue quindi per i ragazzini è molto importante Senti so che c'è anche qualcosa in più perché per alcuni di questi ragazzi si potrebbe aprire una possibilità verso l'Inghilterra? Sì ma diciamo uno degli obiettivi anche della partnership tra i due club è proprio questa Adesso io sono genitore come tanti quindi creare illusioni non è bello avere dei sogni però è importante e quindi se ci fosse mai la possibilità di vedere qualche ragazzino importante l'obiettivo di questa collaborazione tra i club uno degli obiettivi è anche questo quindi se dovesse esserci qualcuno di questi ragazzi interessanti sia nell'immediato che nel futuro naturalmente il Fulham ne terrà conto proprio per questo aggiungo che oggi pomeriggio verso le 7 faremo un amichevole con i 2009 della Ternana misti tra loro e domani con i 2008 e 2007 proprio per questo verranno oggi stanno atterrando a momenti il capo scouting del Fulham e due esponenti della società oltre a questi che già ci sono proprio per diciamo fare una valutazione generale penso che però sia una soddisfazione grande per i ragazzi una grande opportunità comunque in bocca al lupo a loro crevi e grazie a voi di essere qua Cesar Falletti un illustre papà perché tuo figlio è qui a fare questo campus tra Fulham e Ternana Calcio batte il cuore un po' di più da papà? No, no, no perché lui le piace tanto e le piace stare insieme ai ragazzi quindi io sono contento che lui si diverte sta qua per passare un po' di tempo con più bambini, conoscere un po' di più di bambini e lui lo so che è felice quindi io sono felice anche lui Gianluca Falletti, giusto? Mi ricordo bene da occhio clinico del papà ha delle qualità oppure per ora è solo divertimento? Di la verità No, per ora è solo divertimento, come ti ho detto se diverte io sono felice Una bella iniziativa questa Sì, sì, sicuramente lui è piccolo, ha appena otto anni, ha tempo di diventare Sì, tutto va bene il calciatore, se no io sono felice, se lui fa un'altra cosa sono felicissimo perché io non sono quel papà che dice tu devi fare calcio, l'ho detto già dal primo giorno se no ti piace non lo fare ma lui le piace e lo so che farà tutto il possibile per diventare anche calciatore Ma Cesar, ma tu in vacanza non vai? No, io fino adesso sto qua, poi adesso il 15 stacco un pochino, vado un po' al mare con mio figlio e poi ritorno, il 22 ritorno per mettermi un po' in forma per il ritiro In bocca al lupo! Grazie